Ciao, sono Sauro, faccio volontario qui all'Associazione Avis di Montemarciano da 13 anni circa. Ho iniziato a fare volontariato e quindi ad essere socio anche dell'Avis di Montemarciano perché mi sono sentito il dovere di impegnarmi nel sociale. L'Avis durante il periodo Covid mi ha dato un grosso aiuto, mi sono impegnato sempre nell'Avis e mi ha permesso questo anche di, in questo caso pure, di dedicarmi al servizio di chi aveva più bisogno di me e quindi l'Occadale è stata anche una soddisfazione personale, tra virgolette, per dedicarmi agli altri. Aderisci anche tu alla campagna Diventa il mio angelo!